In un mondo che apparentemente non riesce a coltivare la cultura dell'amore, preferendo la cultura della paura, Madre Teresa è stata un'anima luminosa, capace di abbracciare tutti dando speranza con una carità eroica. È un ricordo pieno di riconoscenza e affetto, quello che traccia padre Sebastian Vazacala, superiore generale dei missionari della carità contemplativi. Alla vigilia della canonizzazione della religiosa, nella Casa Serena, l'ostello per i poveri nei pressi di Largo Preneste a Roma, padre Sebastian ci ha raccontato gli anni passati a Calcutta i ricordi più belli di una vita trascorsa insieme con la madre degli ultimi, mettendo a fuoco in una frase la sua eredità più preziosa. È la frase che mi ha confermato, anche se non è la sua frase, è meglio accendere una candela che male dire il buio. Perché noi viviamo un mondo sempre tenebroso, allora è meglio accendere una candela che male dire il buio. Perché lei è continuamente acceso, o nei cuori delle persone, diciamo, scorreggiati, le persone che hanno perso la fede, eccetera, continuamente accendeva questa luce in loro. Anche la sua presenza stesa, perché la presenza sua era la presenza di Gesù. Gesù che è la luce, noi siamo lampade. Comunque questa canonizzazione speriamo che non rimane una cosa, una festa finita, una festa che deve continuare, perché l'opera di madre Teresa deve continuare fino a che abbiamo i poveri nel mondo. La Chiesa e il mondo sono in festa per la canonizzazione del 4 settembre, l'occasione, una volta in più, per ricordare che tutti i cristiani sono chiamati a ricercare la santità, nonostante i limiti e le debolezze. Anche madre Teresa, non è che vivere con lei, io ho vissuto più di 30 anni, non era sempre facile, perché anche i santi non è come quella statua che sta qui. I santi non è una statua, è una vita vissuta con tutta la sua mancanza, debolezza, tutte le insieme. Anche lei andava ogni settimana per confessarsi, anche lei diceva scusa. Lei era umile, non è che pretendeva che io sono perfetto, mai visto. Qualcuno ha detto che sei una santa, non è che diceva che sei una santa. Lei dice grazie, grazie a Dio. La santità non è un luso dei pochi, ma un dovere di tutti. Madre Teresa ha trovato Calcutta in ogni angolo del mondo, nella miseria materiale e in quella spirituale, portando a ogni individuo la misericordia del padre e riconoscendo in ciascuno la sua ricchezza inestimabile. Il rispetto umano, la dignità umana non dipende di quello che uno possiede. Dipende perché ogni persona è stata creata nella sua immagine. Molto facile dire, ma molto difficile di vivere, lei ha lasciato questo patrimonio per noi, per l'umanità intera, senza guardare quale religione è quella che appartiene, senza guardare religioni, colori, lingua, nazionalità. Allora lei ha abbracciato tutta l'umanità come, in un certo senso, amore di Dio, senza frontiera. Non c'è frontiera. Allora lei è senza condizioni. Adesso c'è un messaggio per noi. Noi non possiamo conquistare con le armi, con la violenza, ma l'amore, l'armi più potente. È che lei ha conquistato il mondo e tutta l'umanità con l'arma dell'amore. è vero.